Dal punto di vista del cinema, dov'è che vuoi andare a parare da qua ai prossimi anni? Perché io ti osservo dall'esterno e conosco tanta gente, però sei particolare, non lo so, avresti potuto, ho capito, fare la tua serie, Gomorra, poi te ne stavi libero, tranquillo, e invece no, vai negli Stati Uniti e hai quella micettina da pazzo furioso intraprendente che io l'annuso a chilometri di distanza e allora penso, quale sarà il suo passaggio successivo? Ti vedi sempre come attore, ti interessa la parte di regia, di produzione, dove stai pensando di andare? Guarda, io credo, cioè io non mi riconosco molti, cioè io non so se quando mi dicono hai talento, sei bravissimo, io non ringrazio, ma non lo so, l'arte credo raramente sia oggettiva, solo nei casi estremi, nei casi di talento purissimo, molto spesso è soggettività, a qualcuno può piacere, a qualcuno no, si parla di musica, di danza, di canto, di recitazione. Io il talento che mi riconosco è stato quello di essere curioso, io sono un acquario, sono un sognatore, ho sempre sognato in grande e sono uno curioso, io ho voglia di misurarmi, ho voglia di confrontarmi con i grandi registi, con i grandi attori, per capire fino a che punto posso spingermi, fino a che punto sono in grado, fino a che punto posso stare a determinati livelli e sono uno poi che se si renderà conto che c'è setterà il proprio standard in un certo range, mi metterò lì, buono, senza voler fare di più di quello che posso fare. È quello che mi sono sempre imposto di fare nella mia vita, è quello che porterò sempre avanti. Quello fino ad oggi, dopo otto anni, da quando è uscita la prima stagione di Comorra ad oggi, mi ha portato ad essere co-protagonista di una serie internazionale come Fargo. Tanti progetti stavano arrivando ma si sono dovuti fermare. Quindi, boh, io mi affido al destino, quello che hanno deciso per me, quello che ha deciso il buon Dio per me. Però, per quanto riguarda la regia, la produzione, io, a me piacerebbe aprire una spugnezzeria a Napoli, una scuola che possa essere di recitazione, di regia, diciamo il mestiere del cinema, perché Napoli è una fucina di talenti a livello musicale, a livello interpretativo, di recitazione, a livello registico. Perché, come dicevi tu, l'arte dell'arrangiare ci ha portato a recitare tutti i giorni, fin da tempi in memory. Quindi ce l'abbiamo un po' nel DNA, secondo me. E ci sono tanti ragazzi di periferia che purtroppo non hanno i mezzi, non hanno le possibilità e quindi si lasciano prendere da altre necessità, diciamo così. Quindi il mio sogno sarebbe quello un giorno di fare una grande spugnizzeria che possa avere diverse classi, che possa dare la possibilità agli studenti di accedere anche in modo gratuito. Non lo so, è un grande progetto, vediamo, spero di poterlo realizzare un giorno. Sto cercando, mentre stavi parlando, se il dominio scugnizzeria.com.eo.it è libero, capito? Scugnizzeria.net è libero.del.ai E lo trovo bellissimo, scugnizzeria.live.si Insomma, c'hai un po' di scugnizzeria libero.